La Regione conferma e rafforza il proprio sostegno alle famiglie e agli studenti nelle spese per il trasporto scolastico su gomma. Lo afferma l'assessore regionale delle infrastrutture e territorio Maria Grazia Santoro, confermando che gli abbonamenti per il trasporto scolastico su gomma restano invariati anche per il 2016 e 2017, con tutte le agevolazioni recentemente introdotte nella delibera tariffe di fine 2015. Non ci saranno variazioni nemmeno per gli abbonamenti ferroviari Trenitalia acquistati nel corso del 2016. Non solo, aggiunge Santoro, abbiamo previsto anche sulla linea ferroviaria Udine-Cividale l'introduzione di agevolazioni tariffarie per l'anno scolastico 2016-2017 a favore degli studenti fino a 26 anni. Nessun aumento dei costi dunque ed un'ulteriore novità concordata con la società ferrovie Udine-Cividale che introduce l'abbonamento scolastico anche sulla linea Udine-Cividale richiedibile a studenti fino a 26 anni di età regolarmente iscritti. L'abbonamento con validità 10 mesi dal 1 ottobre 2016 fino al 31 luglio 2017 avrà un costo pari a 8,5 volte la tariffa dell'abbonamento mensile ordinario. Ad esempio, l'abbonamento per 10 mesi per l'intera tratta Udine-Cividale costerà 418.20 euro. L'abbonamento con validità 9 mesi dal 1 ottobre 2016 fino al 30 giugno 2017 avrà invece un costo pari a 7,5 volte la tariffa dell'abbonamento mensile ordinario, pari ad esempio per la tratta Udine-Cividale a 360 euro per 9 mesi. La ragione FUC hanno inoltre concordato ulteriori riduzioni tariffari a favore degli studenti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare. In particolare, una riduzione del 20% per l'acquisto di abbonamento scolastico per il secondo figlio ed una riduzione del 30% per l'acquisto di un abbonamento scolastico per il terzo figlio e successivi. Infine, è previsto in accoglimento una proposta formulata dalla stessa FUC. In via sperimentale, la modifica del periodo di validità dell'abbonamento mensile ordinario che sarà pari sempre ad un mese ma a partire dal primo giorno di validità indicato sul titolo stesso e che quindi non sarà rapportata come è avvenuto finora esclusivamente al mese solare.